File così a Palazzo Reale non se ne vedevano da un po' e invece la lunga coda di persone all'esterno del cancello in piazza del plebiscito è la cartina al tornasole del boom di turisti che ha investito nel weekend la nostra regione. Da Napoli a Pompei, dal Museo archeologico nazionale a Palazzo Reale, da Capodimonte fino ai parchi archeologici della Campania. Ovunque folla e file di turisti ma anche di gente che è arrivata da ogni parte della regione per ammirare le bellezze culturali del territorio. in occasione della domenica con musei aperti a ingresso gratuito. Complici anche il bel tempo, le persone hanno deciso di trascorrere così la giornata. Ed è soprattutto Napoli ad averne beneficiato con l'arrivo di numerosi turisti. In pratica un flusso che seppur ridotto rispetto al Ponte di Ogni Santi non si è mai interrotto. Le file del weekend gratis nei musei però sono destinate a generare non poche polemiche nel mondo della cultura. Se per molti infatti la cultura deve restare gratuita, non è della stessa idea il neoministro Gennaro San Giuliano che ha espresso qualche perplessità. Il titolare del Dicastero Cultura giudica infatti l'Italia un paese troppo generoso, a differenza delle altre città come Parigi dove il Louvre costa 17 euro. E un tour nella Torre Eiffel costa più che sulla Torre di Pisa. Per questo, per il nuovo governo, la strada sembra tracciata.